Buonasera e ben ritrovati su Brescia TV, puntata numero 24 della stagione, siamo sempre più vicini alla fine, sempre più vicini alla fine della regola del season, all'inizio dei playoff, do il benvenuto chiaramente, do il benvenuto, anzi bentornato perché ormai è quasi un mio ospite fisso, ciao Franco, buonasera Franco Busciani. Buonasera, buonasera, ciao. Franco l'anno prossimo nel caso tu dovessi rimanere facciamo una trasmissione Bianchi Busciani perché ormai sei il giocatore che più volte ha visto quella seggiola. Potrebbe essere un'idea chiaramente. Parliamo anche di calcio visto che stai andando spesso a vedere il Brescia Calcio giocare e quindi possiamo fare la trasmissione addirittura multisport. Ormai lo sanno tutti, è la mia passione per il calcio quindi anzi, dobbiamo fare una trasmissione solo calcio e non parlare di basket è meglio. Pensandoci adesso ti sarebbe piaciuto scegliere la carriera calcistica invece che poi il giocatore di basket quando hai cominciato a 14-15 anni a giocare per davvero? Sì, senza proprio ombra di dubbio. Ti è toccato, praticamente sei… Ho provato a dirlo a mio padre però ero molto piccolo, prima di 14 anni ero molto piccolo però dallo sguardo ho capito che è meglio continuare a giocare a basket. Vabbè non è andata malissimo, torniamo all'attualità, non è andata malissimo domenica, hai deciso oltre di fare il genio guastatore di fare quel ruolo che ti scappa ogni tanto di closer nelle partite, quegli otto punti nel parziale di 11-3 che ha deciso poi il derby con Treviglio domenica, tra l'altro tre canestri uno più difficile dell'altro però siamo abituati un po' ormai le abbiamo viste qualche volta queste giocate da parte di Franco Busciati. Beh sì, diciamo che nei minuti finali quando si decide la partita c'è più tensione, c'è più casino, sono quelli momenti che… Ci sguazzi dentro, ti piace giocare a quei momenti di partita? Sì, devo dire… Si vede, sei un giocatore che ha quel tipo di carica agonistica quando riesci a incanalarla come è successo domenica, in quei momenti poi hai queste esplosioni anche di esultanza dopo dei canestri, possiamo definirli impossibili, molto molto difficili, è una cosa proprio che fa parte di Franco Busciati il giocatore. Sì, in quei momenti vado un po' in transa agonistica, sinceramente le esultanze adesso neanche me le ricordo cosa ho fatto, Tra poco le ricordo, perché sono proprio gli ultimi minuti della partita. Sì, sì, se avessi giocato a calcio dopo un gol magari finivo in curva, cioè nel senso in quei momenti ho poco controllo da quel punto di vista. È bello così, diventi un po' un tifoso che però è sul parquet, cioè diventi un giocatore che ha la stessa o trasporto che avrebbe un tifoso se fosse lì in quel momento. Sì, perché comunque vivo le partite in maniera molto intensa e poi ripeto, gli ultimi minuti sono veramente adrenalina pura, sono momenti più belli da giocare dove comunque la palla pesa di più e a me è una cosa che insomma mi piace molto. La partita di domenica l'avete vinta, era la seconda vittoria consecutiva dopo la posa pasquale, la seconda vittoria consecutiva in casa non era una partita così semplice, si giocava contro Treviglio che praticamente si giocava l'ultimo treno per rimanere aggrappata la corsa playoff e probabilmente l'ha perso, voi eravate senza Fernandez con David Mossi inserito da una sola partita, insomma non era una passeggiata. Giocare contro Treviglio era stata una delle squadre che vi aveva messo più in difficoltà nel giorno d'andata. Credo che fu la squadra che mise fine alla nostra striscia. Sei vittoria consecutiva. Tra l'altro io ho giocato contro i loro l'anno scorso a Imola e a fine partita ho fatto i complimenti a coach Bertemati perché già l'anno scorso giocavano nettamente la miglior paracanestro della Silver e anche quest'anno si stanno ripetendo, giocano senza americani, mi piace molto la loro filosofia, quindi la filosofia del loro coach su come giocano e non mollano mai e per noi era veramente molto difficile, soprattutto poi a un certo punto loro si sono avvicinati credo almeno due con i liberi di Lele e lì in altre partite abbiamo ceduto, invece abbiamo avuto una reazione rabbiosa. È arrivato proprio quel parziale di 11 a 3 che diceva 8 punti sono tuoi più la tripla di Passera dall'angolo sono quelli che poi hanno chiuso la partita negli ultimi tre minuti. Una tripla anche di Damian se non sbaglio, quindi è stata assolutamente una vittoria al di là di importante per la classifica che insomma quello sicuramente, però è stata importante perché abbiamo giocato contro un'ottima squadra che come hai detto tu si giocava le ultime chance di playoff, credo che adesso non sono ancora fuori non sono al ritmo di metà, però è difficile. Sì, e quindi è stato anche bello, credo che anche per come abbiamo giocato noi e anche loro quindi è stato uno spettacolo bello anche per chi ha guardato. Pazzesco la partita di Cisli, il miglior realizzatore di Treviglio che ha dovuto subire, la marcatura di Mos, poi la tua marcatura, la staffetta di due dei migliori difessori del campionato, insomma adesso gli avversari cominciano ad avere un po' paura come esattamente come c'è anche la settimana scorsa a Recanati con la staffetta sull'americano, sempre tu e di Mos, che ora tutti gli attaccanti più forti di altre squadre devono assorbirsi te e Mos in difesa un po' uno un po' l'altro, non avranno vita molto facile da qui alla fine della stagione. Ma speriamo di continuare così, insomma io un po' dall'inizio dell'anno ho questo ruolo di andare a difendere un po' la guardia, il playmaker o la piccola avversaria più pericolosa, adesso che c'è anche David è ancora meglio per me perché magari ogni tanto, anche se domenica per esempio sono stato molto più su Tommy Marino quindi sicuramente insomma abbiamo, ma quello lo dicono anche, basta vedere il risultato Treviglia ha fatto 63 punti se non sbaglio, insomma, quindi la difesa è nettamente migliorata e non poteva essere altrimenti Anche dalla metà campo offensiva, partita con 5 giocatori in doppia cifra, con passera 9, con cittadini a 8 tutti coinvolti, nonostante l'assenza di Fernandez, tutti con il loro contributo anche dall'altra parte del campo si sono visti dei passi in avanti con questo nuovo assetto perché chiaramente dicevi giustamente l'inserimento di Mos cambia in difesa, cambia anche in attacco dovete trovare dei piccoli nuovi equilibri, per ora con passera in regia state trovando un'ottima distribuzione dei tiri in attacco Sì, sì, sicuramente abbiamo fatto un gioco collettivo, gli siamo passati tante volte la palla e quello lo testimoniano anche le cifre che hai detto tu prima quindi sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare magari in alcuni frangenti o non subire qualche break o non fermare troppo la palla come è successo in alcuni minuti del quarto quarto però insomma, David è arrivato ad esempio da due settimane il suo inserimento in squadra è stato fino adesso fantastico perché insomma, vederlo comunque un ragazzo che non giocava una partita ufficiale da otto mesi e essere così inserito l'ha aiutato molto al di là della sua intelligenza cestistica e umana anche il fatto di aver trovato un gruppo sano e questo ha fatto sì che le cose si accelerassero Ha giocato e ha vinto Brescia domenica ma hanno giocato anche tutte le altre squadre c'era addirittura il big match per determinare chi probabilmente, quasi sicuramente chiuderà in vetta il girone est se l'ha giudicato Mantova contro Treviso io vorrei andare a vedere la grafica dei risultati di questa ventottesima giornata la terz'ultima di regular season perché Ferrara ha vinto contro la Gialle Trocessa Matera rimanendo aritmeticamente in corso per il play-off anche se rimane una situazione molto difficile perché ora appare i punti con Treviglie quindi nella stessa situazione dei Bergamaschi Rosetto batte Ravenna e prova a tenere il quarto posto Verona super a Chieti, Bologna rifila 22 punti a Recanati Mantova come dicevo prima si è giudicata al derby il big match contro Treviso Trieste senza problemi batte Iesi e Imola invece cade a Legnano quindi se vediamo la classifica ora abbiamo Mantova in vetta da sola con Treviso che insegue a meno due chiaramente per Brescia sarebbe stata preferibile una vittoria di Treviso rispetto a una vittoria di Mantova per provare ad agguantare il secondo posto ma comunque rimane un ottimo terzo posto consolidato da parte della centrale della Tamica Natura quota 38 punti seguita solo da Rosetto quinta a Imola che alla differenza canestra sfavore quindi Brescia potrà chiudere solo o terza o quarta in queste ultime due partite lotta per il sesto posto la coppia Bologna-Trieste sesto e settimo posto l'ottavo è tra Ravenna e Verona Ferrara e Treviglio oramai probabilmente sono esclusi dalla lotta play-off anche se l'aritmetica come abbiamo già detto più volte non le condanna ancora poi Chieti, Legnano, Giesi, Recanati e sul fondo Matera guardare la classifica adesso vuol dire guardare quella Mantova che probabilmente chiuderà in vetta la classifica e da un certo punto di vista una sorpresa da un certo punto di vista non lo è perché è stata una delle squadre più costanti di tutto il campionato però si è giudicata anche il big match con Treviso e quindi è un po' il risultato più importante come è stata importante la sconfitta di Imola che vi ha diciamo concesso il fattore campo nei play-off nel senso che non potrà più raggiungervi quindi sarà Brescia-Rosetto una terza e l'altra quarta Sì, intanto complimenti a Mantova insomma ce lo meritano per la regular season che hanno fatto adesso mancano due partite domenica prossima loro vanno a Ravenna dove comunque non sarà una partita facile per loro non è una sorpresa vedendo il gruppo di italiani che hanno anche perché hanno credo gli americani molto incostanti però hanno questo gruppo di italiani che gli ha permesso di fare questo tipo di campionato però poi si ritorna al solito discorso che comunque la regular season vale, vale tantissimo poi però i play-off sono un altro campionato e lo sappiamo tutti quanti ci sono Bologna e Trieste che ora hanno fatto un passo dentro i play-off andranno quasi sicuramente i play-off una come sesta, una come settima invece lottano per l'ottavo posto Ravenna-Verona e leggermente più indietro Ferrara e Treviglio c'è il rischio addirittura che Verona rimanga fuori dai play-off Verona ha avuto questa stagione molto traballante non fin dall'inizio perché comunque all'inizio bene o male loro sono stati lì col gruppo di testa poi una volta staccati adesso non conosco dall'interno cosa sia successo cosa sta succedendo lì effettivamente fa strano vederli lì sì, per i proclami che avevano fatto quest'estate per il nome del loro coach per comunque il mercato che hanno fatto effettivamente fa strano vederli giocare l'ultimo posto per i play-off fino alla fine però poi ritorniamo al discorso di prima poi magari vanno i play-off e poi dopo buttano fuori la prima dall'altra parte non può succedere di tutto come è successo l'anno scorso proprio con Verona sì, sì mi sembrano un po' meno forti di testa come magari poteva essere a Grigento però comunque non si sa mai il basket è uno sport straordinario il più bello del mondo proprio per questi motivi noi andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo per la seconda parte di zona basket eccoci tornati in studio altri 10-11 minuti per chiacchierare con Franco Busciati che è tornato a trovarmi io adesso abbiamo sviscerato gli argomenti di attualità l'inserimento di Moss l'ultima partita la corsa di play-off mancano due partite di Iesi ne parliamo in chiusura che sarà il vostro prossimo impegno in trasferta domenica alle 18 e io adesso vado con le domande random con le domande casuali per Franco che ormai è abituato e viene a trovare esatto allora la prima domanda che volevo farti pensi hai sempre alternato stagione a Brescia stagione via stagione via stagione tra i primi due anni con la promozione ma poi l'hai sempre alternato quest'anno potrebbe esserci un Franco Busciati che rimane ora che sei il detentore del record di presenze con la madre del basket Brescia potrebbe esserci l'opzione Franco Busciati che sta qui e regioca il resto della carriera in maglia basket Brescia sicuramente un'ipotesi affascinante quasi romantica sarebbe bello però queste sono cose sono dinamiche che non dipendono molto da me insomma poi l'anno scorso nel senso quando sono andato via a Imola era anche giusto così perché comunque non avevo fatto insieme alla squadra non avevo fatto una gran stagione quindi c'è anche la società o direttori sportivi insomma chi decide quindi non non è una cosa che posso dire che adesso decido però come opzione romantica è bello tenerla lì e c'è questa possibilità che può succedere sei tornato tante volte potrebbe essere ripeto adesso tra l'altro siamo in nella parte più calda della stagione quindi assolutamente né si è parlato né a me mi è venuto in mente di andare a chiedere qualcosa del genere quindi quando finirà come finiremo vedremo vado con le domande sono una più difficile dell'altra te lo dico Franco le sto tirando fuori al momento secondo te ora con l'inserimento di David Moss se dovesse recuperare al 100% Juan Fernandez questa squadra ha le carte regola per arrivare fino in fondo ma questa è anche una domanda facile nel senso che anche se pensassi il contrario non potrei mai dirlo no mi piace mi piace il busciati sincero no no saprano tutti sono molto sincero ma ovviamente abbiamo in questo momento molto entusiasmo se dovesse Juan tornerà perché sono sicuro che tornerà ovviamente è fuori da un po' quindi abbiamo avuto questa sfiga sfiga per lui personale soprattutto anche per noi perché Juan in forma credo che sia uno dei migliori playmaker della categoria tra l'altro è un ragazzo bravissimo quindi diciamo non se lo meritava questa maledetta pubalgia però adesso noi stiamo cercando anche di fare il massimo nonostante Juan sia fuori in questo momento queste due partite sono andate bene Marchino sta facendo un lavoro straordinario vedremo ovviamente l'arrivo di David ha portato tanto entusiasmo in tutto l'ambiente dentro di noi insomma e quindi sicuramente vogliamo fare dei playoff da protagonisti non possiamo nasconderci credo in questo momento non si può nascondere nessuno la società è stata chiara con l'acquisto di David e niente adesso vediamo vedremo cosa succederà mancano due giornate lo sapete trasferta a Iesi poi partita in casa di sabato sera in contemporanea su entrambi i gironi contro Ferrara per chiudere la regular season prima dell'inizio dei playoff che è un po' la parte più grande del campionato ma io continuo ad andare fuori dal seminato e vado con le domande casuali a Franco te ne faccio un'altra ogni tanto faccio il giocatore l'ho fatta anche a qualche allenatore dovessi giocare la partita della vita immaginaria puoi prendere quattro giocatori che hanno giocato con te chi prendi? il tuo playmaker la tua alla piccola la tua alla grande il tuo centro farei un quintetto di scemi che non inizieremo mai quindi nel senso che almeno se si perde ci si diverte esatto almeno dopo la partita ci divertiamo sicuro farei Robby sicuro playmaker anche perché Fools playmaker vabbè io sono la guardia esatto tu sei la guardia titolare per questa volta non fai il sesto uomo fai la guardia titolare dai da tre prendiamo uno che ci divertiamo uguale anche con lui prendiamo David perché comunque serve uno di costanza anche uno di costanza fuori dal campo quindi ci si diverte anche con David Mons poi quattro vabbè quattro Mario per forza Gersetti dai cinque facciamo Farouk che serve uno serio almeno uno nel quintetto serio serve e questo è lo starting five di Franco Buscianti se dovesse andare a affrontare l'ipotetica squadra più forte la storia Bacanestro saremo anche buone e senza americani cioè con l'americano meno americano probabilmente della storia del campionato io David lo conosco anche lo conoscevo anche prima lui quando è arrivato in Italia era Iesi io ero a Sassari quell'anno ci siamo affrontati tantissime volte perché poi è stato anche il playoff con loro è un ragazzo anche simpatico è uno un ragazzo molto intelligente insomma non c'è quest'idea di lui spesso no 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 ma io era una chiaramente era una battuta io mi è capitato di intervistarlo diverse volte forse il giocatore l'avevo tweetato il giocatore forse più intelligente che ho mai intervistato cioè dalle risposte capito il livello del giocatore è un ragazzo intelligentissimo con un qui cestistico d'altronde qualcuno con un qui cestistico in quel quintetto lo deve mettere con un qui cestistico elevato però sarebbe divertente vedere con la squadra è uno è uno e ne capisce veramente tanto quando è nella serata giusta l'abbiamo visto diverse volte in una stagione malandata malaugurata le serate in cui Robert Fuster nella serata giusta ha fatto veramente la differenza contro chiunque tra l'altro playmaker americani italiani stranieri non c'è stata nessuna differenza parliamo un attimo brevemente del prossimo impegno perché c'è da giocare con Iesi con una squadra già fuori dalla lotta playoff che arriva da cinque sconfitte consecutive però gioca l'ultima partita in casa della stagione sicuramente proveranno a ben figurare a chiudere il meglio possibile voi avete bisogno di una vittoria per consolidare quel terzo posto che è diciamo pienamente nelle vostre mani nel senso che avete il destino pienamente nelle vostre mani giocate con Iesi che è già fuori dalla lotta playoff giocherete con Ferrara la giornata successiva che probabilmente sarà fuori dalla lotta playoff in quel momento insomma però partendo da Iesi diciamo che c'è bisogno di un'altra vittoria per mantenere il tren positivo e per mantenere quel terzo posto sicuramente dobbiamo andare a Iesi assolutamente per vincere ma non sarà così facile come magari si potrebbe pensare a persone magari fuori che seguono oppure che si basano solo sulla classifica perché Iesi comunque deve preparare i playoff hanno domenica sordirà Corbett che ce lo ricordiamo bene al San Filippo con Treviso ci fece credo 27 punti domenica sarà la sua prima partita adesso lui Corbett è una guardia quindi potrebbero potrebbero giocare con Santiangeli playmaker nel senso saranno degli accoppiamenti non facili per noi perché comunque hanno ragazzi di talento come Santiangeli Corbett e l'altro americano quindi poi a Iesi insomma non sarà sicuramente facile però dobbiamo andare concentrati consapevoli della nostra forza e soprattutto del fatto che noi vogliamo consolidare il terzo posto che è un'ottima posizione dove partire per il playoff poi bisogna vedere anche cosa farà magari Treviso che gioca credo a Treviglio e magari se è ancora una piccola speranza però che cambia poco secondo me il secondo terzo non cambia quasi niente cambia molto le due partite alla fine poi l'inizio dei playoff i playoff li giocherete al Palagiorgi Montichiari è una cosa le prime due serie al San Filippo sì volevo dire scusa c'era stata la possibilità di giocare a Montichiari invece poi si resta al San Filippo è una scelta che è stata voluta fortemente dalla società per perché comunque San Filippo tra virgolette cambia la vita giocare qui è vero che magari al Palagiorgi potevate mettere 4 mila spettatori più di 4 mila spettatori però San Filippo ha dimostrato sia in regular season ma soprattutto nei playoff storicamente di essere un campo difficilissimo da violare una piccola bombonera è quel qui di in più che comunque averlo dalla vostra parte è sempre una buona notizia sono state anche interviste di qualche altro mio compagno hanno detto la stessa cosa che dico anch'io noi siamo stati molto chiari quando ci è stato chiesto noi vogliamo giocare al San Filippo il Palagiorgi è molto bello molto carino è figo avere 5 mila persone al Palazzetto però comunque per noi il San Filippo che è un campo tra l'altro anche particolare dove non non si riesce a giocare benissimo i riferimenti noi comunque ci alleniamo da un anno lì conosciamo bene il Palazzetto e ci troviamo meglio più a nostro agio al San Filippo voglio chiudere con un'ultima cosa che non c'entra niente tutto quello abbiamo imparato anzi c'entra una cosa con cui abbiamo imparato all'inizio è questa tua attitudine a giocare è una Palazzetto molto viscerale molto emotiva io ho un altro degli aspetti che amo molto del tuo gioco che ho sottolineato diverse volte in telecronaca ed è una cosa che non si può insegnare ai giocatori ma il giocatore deve averla dentro è questa parte di trash talking che a te capita spesso tra l'altro con i giocatori molto forti delle squadre avversarie tantissime volte non è una cosa che non può essere controllata dagli allenatori in tanti casi non può neanche essere controllata dagli arbitri può cambiare tante partite lo cambia anche a livello altissimo ci sono giocatori che hanno costruito una carriera su quell'aspetto psicologico Garnett Payton cioè giocatori di un certo livello è naturale poi con i ragazzi americani è anche divertente perché comunque con gli italiani ci metto anch'io siamo un po' più permalosi quindi finire invece con gli americani ti dici tante cose durante la partita ma una volta che ha fischiato l'arbitro è una cosa che rimane lì vengono i primi ad abbracciare a fare i complimenti per la partita è una cosa che è finita mette quel sale in più è un aspetto che fa parte del gioco nel senso a me è una cosa che diverte poi ci sono ovviamente alcune partite sono state non lo so mi ricordo Kovuskui per esempio è stato esatto uno dei duelli che ricordo un duello è stato devo dire anche perché ho marcato poco i primi due quarti due anni fa lui credo che aveva fatto già 35 nei primi tre quarti e lì era in quelle serate che devi entrare nella testa devi fermarlo in qualche modo allora non c'era bisognava inventarsi qualcos'altro è giusto così infatti poi ogni volta che vedo coach Kovani lo ricorda sempre mi ha rovinato la partita perché non voleva più giocare era infazzito però nel verso giusto è divertente secondo me io gioco duro ma non faccio mai contatti per far male o cose odio soprattutto bisogna essere sportivi perché comunque facciamo uno sport e quindi non bisogna esagerare contatti forti duri ok ma poi ci stanno magari colpi bassi e tutto quanto secondo me tre stalking fa parte del fatto sono quelle piccole perle che poi vengono apprezzate poi lo subisco anche è giusto che sia esattamente ti ringrazio Franco per essere tornato a farmi compagnia e per aver risposto a queste domande casuali da una parte o dall'altra ma non sapevamo più di cosa parlare con tutte le volte che sei venuto ospite un saluto e ringraziamento per essere rimasti con noi anche stasera appuntamento domenica alle 18 in diretta in esclusiva assoluta la gara di Iesel Baschabella di Salonessa per stasera è tutto grazie ancora Franco un saluto e ringraziamento per essere stati con noi anche da parte Jacopo Bianchi grazie a tutti 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 grazie a tutti